Ci avete messo dentro 500 milioni di euro, la regione Sicilia perché ha il bilancio di sé stato, con crocetta dall'altra parte che un giorno sia l'altro pure dimostra di non avere neanche la capacità di amministrare. Cioè fare efficienza sull'amministrazione pubblica significa anche far pagare il conto a chi non è capace. Nel momento in cui un'amministrazione non è capace a casa non gli dai altri soldi. C'è un regolamento al Senato che consente di introdurre modifiche molto diverse. La scelta la fa a chi governa. Nel momento in cui chi governa la maggioranza, nel caso specifico NCD e PD, decidono di dar 500 milioni di euro alla regione Sicilia perché non riesce a chiudere il bilancio e crocetta nelle stesse ore. E' in televisione a dire che non sa più come farà governare perché non è capace. Dai un esempio sbagliato. Questo va cacciato a casa e alla nuova amministrazione metterà a disposizione, se servono, delle risorse per ripienare i disastri fatti. Ma cacciando a casa chi non è capace.